Il bimbo nato a Betlemme è il salvatore di tutti perché ha distrutto la morte, ha detto il Papa in un messaggio ai microfoni della BBC, la radio inglese. Dice il Papa a un certo punto, i nostri pensieri, mentre ci prepariamo a celebrare la nascita di Cristo, i nostri pensieri ritornano a un momento della storia in cui il popolo scelto da Dio, i figli di Israele vivevano una attesa intensa, aspettavano il Messia che Dio aveva promesso di inviare e lo descrivevano come un grande leader che li avrebbe riscattati dal dominio straniero e avrebbe restaurato la loro libertà. Dio è sempre fedele alle sue promesse, ma spesso ci sorprende nel modo di compierle. Il bimbo nato a Betlemme ha portato sì la liberazione, ma non solo per le persone di quel tempo e di quel luogo. Egli sarebbe stato il salvatore di tutti, in ogni luogo del mondo e in ogni tempo della storia. Amici miei, che pretesa che ha il cristianesimo e il successore di Pietro umilmente la ribadisce. E la liberazione che egli ha portato non era politica, attuata con mezzi militari. Al contrario, Cristo ha distrutto la morte per sempre e rinnovato la vita per mezzo della sua morte obrobriosa sulla croce. E benché sia nato nella povertà e nel nascondimento lontano dai centri del potere terreno, egli era lo stesso figlio di Dio. Per amore nostro egli ha preso su di sé la nostra condizione umana, la nostra fragilità, la nostra vulnerabilità. E' aperto per noi la via che porta alla pienezza della vita, alla partecipazione, alla vita stessa di Dio. Mentre meditiamo nei nostri cuori su questo grande mistero in questo Natale, ringraziamo Dio per la sua bontà verso di noi e annunciamo con gioia a chi è intorno a noi la buona notizia, che Dio ci offre la libertà da tutto ciò che ci opprime, ci dona speranza, ci porta vita. Carissimi amici, cosa dire di queste parole del Papa? Sono una meraviglia. Il Papa dice che prega per le famiglie, per i nostri figli, per i malati, per tutti coloro che soffrono per qualsiasi difficoltà in questo tempo. Prego specialmente per gli anziani e coloro che si avvicinano alla fine dei loro giorni. Chiedo a Cristo, luce delle nazioni, di allontanare ogni oscurità dalle nostre vite e di donare a ognuno di noi la grazia di un Natale, di pace e di gioia. Il Signore vi benedica a tutti e noi ti ringraziamo, carissimo Benedetto, e preghiamo pure per te. E ricordando che tu ci indichi la strada, che Gesù Cristo è Gesù Cristo crocifisso, non conosco altro che Cristo è Cristo crocifisso. Scandalo per i giudei, per gli uomini religiosi, stoltezza per i pagani. Ecco, questo è il mio buon Natale, carissimi amici, veramente di vero cuore. Grazie a tutti.